Buon ragazzi come è che bentornati in questo nuovo video della Pixemon Ragazzi ci troviamo oggi finalmente nel tredicesimo episodio di questa bellissima serie Pokemon Dovremmo essere al tredicesimo Perché purtroppo sto portando un video a settimana Oggi parliamo davvero di tante cose Innanzitutto come vedete c'è una piccola 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 novità Perché non sto utilizzando più la mia texture pack La mia resource perché metterla come volete Perché tanti di voi mi hanno detto Marco è bella però nella Pixemon non ci sta per niente, per nulla Quindi toglila e vi ho ascoltato tutti quanti ragazzi quindi l'ho tolta Innanzitutto questa qui è la prima novità molto importante Come vedete non sono ancora riuscito a catturare il nostro bellissimo CLB Mi ha sponato ancora un paio di volte però fa niente Ma la vera novità ragazzi è che abbiamo aggiornato Come già sapete magari da video di Eren e di Tiar e di Matteo tecnicamente Che abbiamo aggiornato la versione della Pixemon Quindi nulla abbiamo un sacco di Pokemon nuovi Tutte quante generazioni nuovissime di pacca Quindi ci sta, sono davvero molto felice Perché finalmente ragazzi si è avverato il mio sogno nella Pixemon Che chiederete Marco ma qual è il tuo sogno nella Pixemon ragazzi? È avere un bellissimo Garchomp Per avere il Garchomp dobbiamo prendere il Gible Che spuona solamente nell'Extreme Heals ragazzi Il tramonto è all'alba Tecnicamente nel Dawn e nel Dusk Quindi dovremmo aspettare un attimino l'alba a sto punto Visto che è notte piena e non vorrei nemmeno andare a dormire E quindi a sto punto se riusciamo a Allora innanzitutto dobbiamo smettere di dire a sto punto Perché sta diventando una mia immensa Poi dobbiamo cercare qualche allenatore da cercare di sconfiggere Così magari ci alleniamo ancora intanto un pochino di Pokemon Nell'attesa di trovare Di trovare no in realtà Ma di aspettare l'alba Per poi catturare il nostro bellissimo Ghibo Ok già qua vedo No è un Move Reliner Quindi no niente Uffa Mi ha un pochino trollato La notte ragazzi Senza la mia resource Perché è un pochino strana Non sono molto abituato a giocare appunto senza la resource Perché visto che la vedete praticamente tutti quanti nei video Anzi se seguite solo la pixel non siete delle brutte persone Perché in descrizione lascio sempre tutte quante le playlist dei miei video e degli altri video Quindi andatevele a vedere Cerchiamo un attimino qua in giro un allenatore Che ci possa magari affrontare Combattere all'interno della notte Magari cerchiamo anche di scoprire quali Pokemon nuovi sponano Questi qua già c'erano Tecnicamente come vi chiamate Sì cascuno ovviamente c'erano già Qua c'è un allenatore al 24 Io voglio lanciarmi su Con il mio bellissimo Charizard Perché comunque è un pochino da livellare Il nostro Charizard è sempre senza testa Che ignoranza Ha un Beedrill Beh noi gli facciamo un bel Flame Burst Dovrebbe morirci subitissimo Non ha Pokemon Ha uno Scyther Cambiamo Facciamo un Ember sul Scyther Ce l'ho tolto un pochino Ma noi lo shottiamo del tutto Un altro Butterfly Hanno sempre tutti quanti gli stessi Pokemon Credo che la formazione di per sé Dell'allenatore all'interno dell'isola Riguardi appunto i Pokemon che spawnano E la cosa è anche abbastanza logica Dai dovremmo shottarti Non mi ha fatto sollivellare di uno Raga fermi tutti È Alba È l'Alba È l'Alba Allora tecnicamente Lì c'è anche un Mega Venosaul Che palle Bomber non posso prenderti ora Perché devo pensare un attimino Al Gible Una fatica immensa raga Siamo appunto sull'Extremist Come vedete a sinistra E allora Vediamo un attimino se riusciamo a trovarlo qua in zona Ma credo che Siamo arrivati un po' troppo tardi Vediamo Vediamo Se c'è qua in giro Un Gible Spero Allora ragazzi Innanzitutto Non si può trovare giga enorme Speravo davvero di comunque avere un Gible giga enorme Ma visto che la versione non Non si può Non ci sono dei Pokemon Che spawnano di per sé Già giga enormi Si possono solo citare E poche spawnare Mi spiace questa cosa Però purtroppo Non potremo mai avere Un Pokemon giga enorme E vediamo un attimino Se riusciamo a trovare un Gible Quello? No è uno Staraptor Si sono un paio di Staraptor in giro E magari qua in alto è spawnato Speriamo Cavolo di Xtreme Hills Sono scomodissime Se cavolo di Xtreme Hills No niente raga Non c'è nulla Non c'è C'è un Shackle C'è uno Shackle Un pochino inutile Questo Shackle Là in fondo Non vedo Pokemon Perché non me renderizza A questo punto Prendiamo il Charizard Che mi faccio sempre a piedi I pezzi enormi di strade Però in realtà abbiamo tutti quanti Pokemon che volano E sono un po' un pira Perché ho perso un sacco di tempo Anche per raggiungere Queste Xtreme Hills Però niente Non vedo l'ombra di Gible Allora ragazzi Tecnicamente Sto girando un pochino Per l'isola Sto guardando un attimino Per capire quante Xtreme Hills Abbiamo E qua ce n'è un'altra enorme Però a questo punto Io preferisco avere Delle Xtreme Hills Diciamo Un pelo un po' più comode E quindi a questo punto Intanto Oddio Ciao Staraptor Perché non restavi fino a un secondo fa Ho bisogno di un Xtreme Hills Un pochino più comoda Quindi a questo punto Vorrei Emigrare Un attimino Verso l'isola centrale Verso l'isola centrale Intanto qua c'è un Outrable Raccogliamola Ci può sempre stare Un Outrable Cos'è? Struggle Bug Non so nemmeno che mossa sia Comunque Spero magari di trovare Una zona Che abbia What? C'è uno spawner di Moltres Nella mia isola? Ma che caccia Ci fa qua uno spawner di Moltres? Dio Moltres? Ma io Moltres Mi ricordo qualcosa Che c'entra con me Moltres Meno che Paineco Centri qualcosa Con Con i miei vecchi Pokemon Come il Tyranitar Vabbè Fa niente Comunque Là c'è la casa Intanto della confraternita Anti Paineco A sto punto Comunque Dirigiamoci verso il centro Cerchiamo un Extremis Più comoda E aspettiamo il tramonto Mi sa che sta calando il sole E infatti siamo al centro In quest'altra Extremis Al tramonto Cerchiamo di capire Se ci sono altri Pokemon Qua in zona Ma Ma in tutte le Extremis C'è Uno Questo qua è di Articuno Ragazzi Stiamo scoprendo Delle cose sconvolgenti Oggi Ok Tramonto Ghibol Ghibol Se sei in giro Batti un colpo Ok Scendiamo un attimino Qua c'è un Geodude No un Golem Che bella l'animazione Che rotola Attiviamo la minimap Un attimino Vediamo Minimap on E cerchiamo di capire Se qua in zona Ci sono dei Pokemon Ma Non credo Scendiamo un attimino Un po' più in basso Ok Qua sotto Dovrebbe esserci dei Pokemon Niente Ghibol Per ora Un altro tramonto Ragazzi Speso alla ricerca Di un Ghibol Sopra il mio Charizard Però la vedo Molto dura Sto cercando anche Di capire nella minimappa Se riusciamo a capire qualcosa Però Sono sempre i soliti Golem Geodude E queste robe qua Che cacchio di Pokemon È quello Di qua non ho visto un altro Oddio rega Che cacchio di Pokemon È questo Oddio Al 56 anche Però bisogna Un Ghibol Diamine Di qua ne è spawnato un altro Ignorantissimo anche questo Rega Io ovviamente Non ne conosco Sti Pokemon Tutte le generazioni nuove Io me ne sto prendendo Tutte le generazioni nuove Quindi per favore Aiutatemi In qualunque caso Proviamo a fare l'ultimo giro Però Non Lì vedo un puntino Però credo che sia Al solito Pokemon Di prima Tutto rotolante Quello è un Ghibol Quello è un Ghibol Questo qua è un Ghibol Al 23 Ciao Bomber Allora Vini qua Cambiamoti Proviamola subito rega Bag Pokeballs Ultra Ball Ti vedo Non uccidiamola rega Non combiniamola Non vedo la Ultra Ball Ghibol Brookfree Minchia Che attacco di bastante Mi hai tolto un botto rega Non so se Chalcharisadeva Un pochino in meno di vita Dobbiamo prendere Prendiamo il Pidgeotto Un attimino Intanto qua ci sono Pokemon Che si può entrare di loro Allora voi due Allora Pidgeotto Bomber Calma un attimo Devi fare solo un attacco Molto semplice Fagli un Quick Attack Al buon Ghibol Li togliamo un pochino Non troppo Mi raccomando Facciamo i bravi rega Perché il Pokemon Stiamo cercando da 20 minuti a sta parte Abbiamo trovato Top Top Al terzo tramonto Alla prima È un'alba Abbiamo trovato un Ghibol Diamine Allora Quick Attack Un altro Quick Attack Perfetto Dai ci siamo rega Ora secondo me Con le nostre Ultra Ball Ce la si può fare Prendiamola Tiriamola Tiriamola Brookfree ancora Dobbiamo fargli un altro attacco Un altro attacco Con Quick Attack Ok è diventato rossa Vita rossa Non si può più attaccare Adesso il Ghibol Quindi calma No basta attacchi Bag Pokeballs Ultra Ball Ne abbiamo 22 Dai Ghibol Non c'è nemmeno tanta vita Entra Rimanici perché mi servi Bomber Dobbiamo avere il Garchomp Basta Brookfreeare Bomber Allora Facciamo una roba Tiriamo fuori il Kirlia Molta calma Bags 21 Ultra Ball Non sei un leggendario Ghibol Per favore Smettila E rimanici dentro Brookfree ancora Raga Che palle Preso 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 il Ghibol Mio dio Abbiamo preso il Ghibol Dobbiamo tornare subito in base C'era abbiamo il Charizard Sì Bomber vieni qua Andiamo subito in base Raga Abbiamo preso il Ghibol Oh mio dio Voglio subito evolvere in questo episodio Dobbiamo trovare tutti quanti gli allenatori Della confraternità antipaneco E cercare di ucciderli Ucciderli Sono male Però Dobbiamo combatteri col Ghibol Così livelliamo tantissimo Almeno la prima evoluzione di Ghibol La facciamo Perché voglio così tanto il Ghibol Perché essenzialmente La mia idea raga Come vi ho detto Anche di prendere il Dratini E a sto punto Anche di prendere un Bigon Se non era Si chiama così Per far evolvere in Salamence Così avere i tre draghi fortissimi Cioè il Dragonite Il Garchomp E anche il Salamence Alla fine Più il nostro Charizard Più il Tyranitar Più il Celebi Credo che sia la formazione più forte Che possiamo avere Contro la confraternità antipaneco Non chiedi perché sono così tanto fissato con i draghi Però di per sé sono degli animali Che non esistono nella realtà Che però nella mitologia Mi sono sempre piaciuti un sacco E anche nei Pokémon di per sé Allora a sto punto Uniamo queste due cose E voglio appunto questi tre draghi Allora Lasciamo giù questo bellissimo Charizard E andiamo qua nel computer Prendiamo il nostro bellissimo Geeble Lo mettiamo al posto del Kira Del Kadabria Del Kadabra un attimino Perché tanti voi mi hanno dato di scegliere Tra il Kira e il Kadabra Kirlia Perché con Gardeward Dovrebbe essere molto più forte Di Alakazam Quindi facciamo tornare un attimo In vita i nostri Pokémon Andiamo a dormire Visto che è anche notte E cerchiamo anche dei animatori in zona Per far evolvere il nostro bellissimo Ciao Ombra Guarda qua che bel Pokémon Che abbiamo trovato Un fantastico Geeble Wow Marco Ottimo lavoro Devi procedere con le evoluzioni E allenare i tuoi Pokémon Sì dai Ombra Sì sì dai Perché c'è un Geeble bellissimo E tu no Passata la notte ragazzi Io direi quindi Andiamo alla ricerca Di questi nostri bellissimi allenatori Oppure Di per sé Deviamo cercare Anche Pokémon Di livello un pelo più alto Devo mandare Innanzitutto togliamo la minima Perché è fastidiosa Ok In più dobbiamo andare Magari avanti il Geeble Quindi facciamo così un attimino E poi il Chakza Così sciottiamo tutti quanti E chi si è visto Si è visto Li vediamo un sacco il Geeble Comunque secondo me raga Ogni tanto ci stanno Questi episodi di gameplay Perché tanti Mi hanno detto di calmarci Un attimo con la storia E quindi mi sono fermato Un attimino Con molta calma Facciamo un po' di gameplay Che è davvero Molto importante Anche da portare All'interno della serie E dobbiamo trovare Subito degli allenatori Che non trovo più Di solito ne trovo 100.000 Dove devo andare A fianco al covo Della confraternita Per trovarli Secondo me Perché sono lì a proteggerlo Lì ne vedevo uno Che mi ha notato subito E sta scappando Ehi tu Ehi Sei al 19 Calma va bene Sei al 19 Dove stai correndo Vieni qua Vieni qua Ehi tu Calmati Hai un Paras al 18 Ma io te lo affronto Con il Gible direttamente Allora Cosa facciamo Ha degli attacchi Un po' di merda Takedown Dovrebbe fargli qualcosina Molto bene Mi ha poi suonato Il Gible L'unica cosa Che non doveva succedere Paras di merda Ti odio Perché ho fatto Sta caccata Perché Perché cambiamo Pokémon intanto Pokémon Charizard Shuttiamoli tutti Quanti i suoi Pokémon Stupidi Diamine Flameburst Beedrill Dai vai fuori Vai raga Sto cercando un attimino Di informare Sempre di più Quei Pokémon Anche con questa nuova generazione Sto cercando anche Di capire un attimino Che Pokémon Ci sono nuovi Di che tipo Di che livelli Tutte quante queste cose Quindi Cercate di capirmi Abbiamo tolto lo slash Al Charizard Che doveva impararlo Però l'ho tolto Così a random Poi scritto Se magari ho sbagliato Poi con un move tutor Magari lo facciamo Reimparare Cerchiamo altri allenatori Perché il Gible Raga È al 23 Gli manca Sta prendendo vita Vediamo Corriamo Vediamo No non sta prendendo vita Perfetto È un po' apasionato Però vabbè sti cazzi Comunque dicevo Tanto qua c'era il nostro primo indizio Di Pineco Li manca un livello solo Il nostro Gible Per diventare un Gabite Non so come chiamare Comunque si chiama Gabite E quindi Dobbiamo trovare L'ultimo allenatore Che ci darà La possibilità Di fare questa cosa Lì ne vedo uno Lì ne vedo uno In mezzo alle frasche Ti vedo Bomber Ti vengo a prendere Allora Lanciamo subito Il nostro Gible Così magari questo Non scappa È un 31 Ottimo Ottimo Perché almeno Si livella anche un pochino Il nostro bellissimo Charizard Quindi cambiamo subito Un 41 contro un 30 Questo sarà Armald Super efficace Con Charizard Prendiamo un Dragon Rage Eh ci shot Charizard Ce l'ha messa un attimo Nel culetto Bene raga Noi abbiamo un Terran Inter devastante A sto punto Gli facciamo un bel Stonehenge E salutiamoli Il suo Armaldo Arken Che non so che Pokémon Si ha detto sinceramente Credo che il Gible L'abbia livellato intanto Facciamogli anche l'Arken Gible Gible si sta evolvendo Raga No non la vedo Che sfiga Non vedo l'evoluzione Del Gible Che è quella che sto aspettando di più Tanto si è bugato tutto Incredibile Dai Vuole vedere il Gible Che si è volvendo in Gabite Ma che palle You're Gible Evolved into Gabite Perfetto Yeah Fa un rumore bellissimo Ok Dual Chop Glielo faccio imparare Dual Chop Magari al posto di un Sand Attack O di un Sandstorm Al posto di Sand Attack Raga glielo facciamo Dai Mamma che bel rumore Che fa Gabite Raga Dio mio Tiriamolo fuori Ciao Bomber Ma raga Non ho neanche guardato Le caratteristiche del nostro Gabite Cerchiamo un attimo di capire Stats Summary E poi suonato ovviamente C'ho queste sue mosse Natura calma Growth Credo che sia normale O grande Vabbè Comunque vi ho già detto Che comunque Giga enorme Non si possono trovare I Pokémon in natura Giga enormi Di per sé All'interno della Pixabon Di qualunque versione E quindi nulla Per avere Giga enorme Bisogna per forza Poche spawnarseli Quindi anche Cittarseli Ma non è questo il caso Visto che l'abbiamo trovato Non Giga enorme E sono davvero felice ragazzi Per questa cosa Lasciate un bel like Un bel commento Perché abbiamo trovato Il nostro G G-Ball Che poi In gabite E in più Abbiamo livellato Anche più Che non Il Chirisart Come vi ho detto Comunque ragazzi In questi video Della Pixabon Non faccio tanto Perché molti Sono ancora in vacanza Però ragazzi Un bel like Un bel commento Supportate la sede Della Pixabon Perché è davvero Molto bello Divertente Con i Pokémon E da Mark è tutto ragazzi Bella